Vincenzo Evola, è un Consiglio Comunale o è un processo? Un processo dentro il Consiglio Comunale. Lei perché non paga le tasse? Le tasse vanno pagate, altrimenti si va incontro. Esattamente, io sono stato sempre molto ligio a pagare le tasse perché sono stato sempre un cittadino onesto, come sa il signor sindaco and company, e per bene, così come è stata sempre la mia famiglia. Fermo, restando che se uno si trova in uno stato di necessità non può pagare qualche tasse, che colpa ne ho. Punto all'ordine del giorno la decadenza da consigliere, poteva benissimo farcelo delazionare, non è che necessariamente si doveva arrivare allo sconto. Lei intanto, se uno non paga le tasse, io devo precisare che non sono mai stato un evasore fiscale. E questo è un aspetto fondamentale del mio essere cittadino. Per quanto riguarda la dilazione, di quali importi stiamo parlando? Stiamo parlando di 1200 euro di Tari, anno 2018-2019, che viene pretestosamente utilizzato per dichiarare la mia incompatibilità. Così il signor sindaco si libera finalmente dell'unico consigliere comunale che gli fa opposizione. Mettiamolo, quindi per lei è una vendetta politica? No, per me non è una vendetta politica, è peggio, è la continuazione di quel sistema che lui utilizza nei confronti di chiunque e in particolare nei confronti del dottor Vincenzo Evola, in base al quale chi non piega la testa o si ricatta o si perseguita. Lei è stato, a quanto pare, testimone di un incontro particolare che ovviamente non è stato gradito dal... Ne parliamo di questo incontro? Ma certo, ne dobbiamo parlare di tutto, anche perché la democrazia si fonda sul diritto di parola, se non sbaglio. Signor sindaco, sul riguardo, chi sono? E quindi la prosecuzione di che cosa? Della vicenda dove sono stato dichiarato un atto amministrativo in idoneo e espulso, espulso dall'Aggiunta senza giustificato motivo, anzi espulso perché sono stato ricattato, ricattato o firmi o ti dimetti. Per quanto riguarda la testimonianza, non è una testimonianza mia, è stata semplicemente... Una presa visione? No, neanche. Una circostanza. Mi trovo presso gli uffici dell'edilizia privata e vado a trovare l'assessore a bilancio, che è un'istituzione al conflitto di interesse, che parlamentava con il capo di ripartizione dell'edilizia privata. Beh, sul tavolo c'erano dei fascicoli. No, i fascicoli è solo un dettaglio. Il nostro signore assessore, a quanto pare ex a bilancio, quando io sono entrato per fare gli auguri di Pasqua al capo di ripartizione, ha mostrato immediatamente una insofferenza ingiustificata, perché l'assessore a bilancio, al conflitto di interesse, ha una nozione privatistica degli uffici pubblici. Stavano parlando o c'erano certezze? Stavano parlando, noi stavano parlando. Io sono entrato per salutare il capo di ripartizione e chi si è infastidito con la mano mi fa ora n'esce fuori perché c'è cosa imputtante. Al che, arrivato a questo punto, siccome il dottor Vincenzo Evola, come loro sanno, non sono un sogno fissa, ma non accetta un'idea, diciamo, privatistica della cosa pubblica. E io sono nell'esercizio... E poi parliamo di esco, sì, ma ancora parliamo di altre cose abbastanza... A te, a me ci arrivare, tu sei, hai troppo prescia. La fretta fa i gattini ciechi. Il discorso è che sono entrato per salutare il capo di ripartizione, che cosa mi fa? Invece ne esce fuori. A un bel punto io dico, senti, non è che non ci posso stare io qua, non ci puoi stare tu, perché tu... Come mai ti trovi qua quando sei un libro professionista? Da lì si è scatenata, diciamo, un libro professionista nella materia della ripartizione di Zapprima, un conflitto dove, tra le altre cose, ho rilevato che lui si trovava a parlamentare con dei fascicoli aperti, di cui uno riguardava un illustrissimo personaggio noto alle croniche giudiziarie. O mafioso. O mafioso. O mafioso. Ma diciamo il nome e cognome. No, è una questione di nome e cognome. Io non voglio farne... Ma no, perché io sono stato sempre su posizione antimafia, e lo sanno pure le pietre a Carini. Il punto non è questo. Il punto è che, da un punto di vista politico, della democrazia politica, un assessore a bilancio non si può trovare all'inizia privata a trattare questioni private, di privati, a maggior ragione di quel tipo di privati. Appunto. Esattamente. Il punto è questo. A questo punto però il Consiglio Comunale martedì sarà sovrano, quindi deciderà il Consiglio. E facciamo decidere al Consiglio, fermo restando, e questo lo rivolgo alla Secretaria Comunale che dovrebbe presiedere al principio di legalità. A quanto pare l'unica incompatibilità mia è rilevata soltanto nei confronti del Consiglierevola, guarda caso. Un conflitto di interesse dell'assessore a bilancio non è rilevabile. fermo restando è il Consiglio Comunale che decide per legge se questa, diciamo, mancanza dell'assessore, dell'ex assessore, nonché il Consiglio Comunale, il dottor Vincenzo Evola, che non ha potuto pagare la tari perché si trovò muro con muro, perché era disoccupato, eccetera, eccetera, è tale da giustificare la subordinazione dell'esercizio e del principio e del bene giuridico e della sovranità popolare a quello, diciamo, ha mancato pagamento di pochi spiccioli. Di chi stiamo parlando? Di pochi euro. Di pochi euro. Quindi poi il Consiglio Comunale per legge decide, no, il dottor Vincenzo Evola esercita la funzione politica e non ha potuto pagare queste somme per ragioni giustificate e quindi, diciamo, dobbiamo salvaguardare l'esercizio del diritto e la sovranità popolare. Grazie.